Quando sono stati i miei commercialisti, dissi loro, cari commercialisti, io mai avrei pensato nella vita di guadagnare quello che guadagno oggi, punto, e lo faccio, sì. Allo Stato dobbiamo dare 50, 60, 65, il 65%, e lo diamo allo Stato, quello che mi rimane lo guardo e dico, oh, mai avrei pensato di guadagnare una vita come questa, quindi non mi venite a dire, senti perché, ci prova qualcuno, dice, però se tu fai così e poi facciamo così, facciamo comparire che, e poi dopo fai un viaggetto alle Gaiman e poi te ne vai a cosa, te ne vai a Svizzera e metti in là, ti prendi la cittadinanza a San Marino che poi la trasferiamo a Malta, che poi andiamo a qua, no, non si può.